Bene, Melissa, Don Mirko ha detto che da oggi iniziamo il libro dei giudici. Sai chi sono? Ho sentito che sono dei condottieri, ma non ne sono così sicura. Voi che lo chiamo così gli chiediamo delle spiegazioni. Sì, meglio. Don Mirko? Ciao, Melissa. Ciao. Ciao, Alessia. Dove siamo arrivati? Di cosa stavate parlando? Allora, avevamo detto che dovevamo iniziare il libro dei giudici. Ci puoi dare due dritte? Ah, sì, sì. È interessante partire un attimo con due coordinate di fondo del nostro libro. Abbiamo appena concluso il libro di Josué e si conclude il libro di Josué con la morte di questo grande personale. Forse vi ricordate che Josué ha preso il posto di Mosè, quindi siamo davvero tra i personaggi più importanti di tutta la Bibbia. Mosè è più importante dell'Antico Testamento. Josué è il luogotenente di Mosè, nasce così almeno, e poi diventa lui il condottiero, la guida del popolo. Ed è attraverso Josué che si svolge la conquista della terra promessa. Mosè è dovuto rimanere al di fuori della terra promessa, è morto alle soglie della terra promessa, ma al di fuori. Josué, invece, è il grande condottiero di questo ingresso nella terra promessa e poi della conquista del paese. Muore però anche Josué. Infatti, la conclusione che posso riprendere del libro di Josué ci dice che Josué morì a 110 anni, venne seppellito, e poi si dice che Israele servì il Signore in tutti i giorni di Josué e degli anziani che sopravvissero a Josué e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Attenzione, si dice cioè che fino all'epoca di Josué le cose andavano bene, perché queste persone cosa facevano? Conoscevano il Signore, conoscevano le opere del Signore, cioè si fidavano ciecamente del Signore e quindi vivevano secondo l'alleanza. Cosa succede però poi? Alla morte di Josué nascono i problemi. Sorge una generazione che non ha conosciuto il Signore e le sue opere in maniera così chiara, così netta, così distinta. E quindi è sicuramente una generazione più tiepida, che comincia ad allontanarsi rispetto a quell'alleanza super ufficiale che abbiamo visto che aveva stabilito praticamente Dio con Israele attraverso la figura di Josué, alla fine del libro di Josué. Questa alleanza comincia a essere pallida, debole. C'è un'epoca in cui Israele non fa bene come nel libro di Josué. Abbiamo quindi una sorta di decadenza, una decadenza progressiva. Ci si allontana sempre più dal Signore. Quando termina questa decadenza? Beh, potrei dirti che il Libro dei Giudici ci presenta proprio questa situazione di decadenza progressiva. Nel Libro dei Giudici le cose vanno sempre peggio. E leggendo alcuni brani, alcuni passi, vedremo che la moralità è sempre più bassa, la fedeltà a Dio sempre più bassa. Un momento in cui questa progressiva decadenza del popolo si ferma e il popolo risorge, direi, è con l'inizio della monarchia di Israele, cioè concretamente con il grande re Davide. Ma è solo un momento temporaneo di miglioramento. Infatti i cosiddetti libri storici della Bibbia, che noi stiamo adesso analizzando, si concludano in maniera, direi, negativa, cioè con la sconfitta del popolo e grandi tragedie militari, come segno di una punizione da parte di Dio perché il popolo non è rimasto fedele all'Alleanza. Rimanendo nel Libro dei Giudici, vorrei farvi vedere ora proprio come in questo libro si siano svolti i fatti e ci sia una progressiva decadenza rispetto all'ideale di purezza iniziale che era stato così bene stabilito nell'Alleanza sul Monte Sinai e poi l'Alleanza con Giosuè a Sique, ma alla fine del Libro di Giosuè. Ultima cosa da dire sono i giudici. Chi sarebbero questi giudici? Non hanno niente a che fare con i giudici che intendiamo noi. Più che altro possiamo dire i giudici sono dei condottieri di tipo militare. Certo poi hanno anche esercitato il potere e hanno giudicato alcuni casi, ma normalmente sono dei condottieri militari che Dio ha suscitato di fronte alle gravissime difficoltà militari di Israele. Israele era sempre in balia dei popoli che già abitavano nella terra promessa e Dio volta per volta suscita questi giudici come condottieri, come liberatori. Sono chiamati da Dio per una missione, liberare il popolo da questo nemico. Normalmente il giudice elimina il nemico e dopo torna a vita privata. Infatti il punto di forza di questa carica di giudici è che non è una carica ereditaria. Vedremo studiando i libri che parlano dei re di Israele che quando le cariche diventano ereditarie viene fuori il peggio perché non emergono i migliori ma tendenzialmente c'è un continuo passaggio di male in peggio quando la carica è ereditaria, quando si crede di occupare un posto non per scelta di Dio ma per imposizione degli uomini e loro pretesa di diritti. Ma vediamo il libro dei giudici nel suo inizio. Siamo ai capitoli 2 e 3 del libro dei giudici. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore di Israele. Notate come si riprenda all'inizio del libro dei giudici quello che già abbiamo trovato alla fine del libro di Giosuè. Una bellissima cerniera. Poi Giosuè, servo del Signore, morì e fu sepolto eccetera eccetera. Anche quella generazione fu riunita ai suoi padri. Dopo di essa ne sorse un'altra che non aveva conosciuto il Signore né l'opera che aveva compiuto in favore di Israele. Ecco, vi chiedo di sottolineare questo verbo conoscere. Nasce una generazione che non ha conosciuto il Signore. Perché conoscere non è semplicemente sapere ma vuol dire nella Bibbia conoscere, vuol dire avere relazione, avere fiducia. La stessa cosa l'abbiamo vista all'inizio del libro dell'Esodo quando abbiamo detto Giuseppe in Egitto ha portato ricchezza all'Egitto ma morto Giuseppe passati degli anni la gente non conosceva più quello che ha fatto Giuseppe e quindi non si fidava più degli ebrei in Egitto. Quando tu non conosci guardi in maniera negativa. Parti prevenuto. Penso che sia importante anche per la nostra realtà di tutti i giorni. Quando noi non conosciamo una persona siamo per natura diffidenti, non ci fidiamo. La sfida allora è quella di provare a impegnarci per conoscere di più altre culture, altre realtà, altre persone. Non rimanere chiusi noi stessi ma conoscere. Perché quando conosci qualcuno non puoi sentirti a disagio o rigettare quella persona. Però qui si dice che arrivano in scena delle persone che non hanno conosciuto il Signore e quindi non si ricordano di tutti i benefici compiuti da Dio verso Israele e fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono altri dei. Notate che hanno rigettato quella clausula dell'Alleanza che diceva non dovete pensare e adorare altri dei. Invece loro fanno proprio questo. Non conoscono il Signore, non si fidano di Lui non sanno quanto sia importante per la loro vita e quindi si danno ad altre divinità. Abbandonarono il Signore Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Perché gli israeliti abbandonano il Signore? Direi che è proprio la questione di non ricordarsi più tutti i benefici che Dio ha compiuto verso di loro. Per cui non sapendo più tutto il bene che Dio ha compiuto nasce la domanda perché dovremmo adorare Dio? Che spazio ha Dio nella nostra vita? E a partire da questa, capite, si apre lo spazio per l'allontanarsi da Dio, dimenticare Dio, essere molto più tiepidi e servire altre divinità. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed essi non potevano più tenere testa ai nemici. Fate attenzione alla dinamica che ritorna qui e che è proprio ciclica. Prima situazione, il popolo dimentica Dio e si dà all'idolatria. Di conseguenza, dice il testo, Dio mette il popolo in mano a predatori, a nemici che sono più potenti e che fanno davvero del male al popolo. Minano la sua sopravvivenza. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore aveva detto. A questo punto, il popolo cosa fa? Il popolo di fronte ai nemici si mette a supplicare Dio, supplicano Dio e riconoscono la loro colpa. Un po' per convenienza, probabilmente, un po' forse perché davvero si sono ravveduti, ma di fronte a queste tragedie il popolo supplica Dio. Allora cosa succede? Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Cosa succede però? che neppure ai giudici davano ascolto, anzi, poi continuavano a prostituirsi ad altri dèi e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non fecero così. Notate la differenza tra l'età antica dei padri, rispettosi di Dio, dell'alleanza, e questa età invece di persone che non rispettano l'alleanza. Faccio presente poi ancora la dinamica. Quando il Signore suscitava a loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Quindi abbiamo il peccato del popolo, la punizione da parte di Dio, la supplica del popolo Dio salvaci, Dio che suscita un giudice, le cose vanno bene, e poi cosa succede? Versetto 19. Ma quando il giudice moriva tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Avete visto insomma questa sorta di storia ciclica che si ripete sempre uguale nell'epoca dei giudici. Quindi il popolo dimentica Dio, Dio manda i nemici, come prova, come segno di una punizione dovete cambiare, il popolo supplica Dio, si pente, Dio manda allora un salvatore, un condottiero, il libro dei giudici parla proprio di queste persone, il popolo ascolta il giudice, combatte insieme a lui, scacciano i nemici, ma poi il popolo torna a peccare. È un ciclo continuo. Qual è la dinamica di questo ciclo? Che quando il popolo è in difficoltà si ricorda di Dio e prega Dio. Quando invece il popolo ha vinto la sfida contro i nemici, quando il popolo si sente autonomo, si sente forte da solo, allora dimentica Dio. Se voi pensate, è il grande rischio che abbiamo sempre noi, che quando le cose ci vanno male, allora siamo magari pieni di preghiere, di intenzioni verso Dio, quando le cose ci vanno bene, invece, ci dimentichiamo di Dio. Mi piace molto quello che ha detto una persona che conosco, dice, per me è la sfida della mia vita, per me che sono una persona benestante, agiata, che non ho problemi in famiglia, eccetera, la sfida è quella di rimanere legato a Dio, anche se la mia condizione mi aiuterebbe in qualche modo a dire non serve Dio nella mia vita, di Dio posso dimenticarmi perché ho tutto quello che voglio. E penso che sia questo il grande rischio per noi persone, cioè quando abbiamo tutto è facile che ci dimentichiamo di Dio, quando invece siamo nella difficoltà allora chiamiamo in causa Dio, lo preghiamo, lo supplichiamo. Sarebbe bello poter vivere una quotidianità con Dio in tutti i casi, ma questa è una provocazione così che vi lascio. E riprendiamo il testo dal versetto 1 del capitolo 3. Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere allo scopo di mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le guerre di Canaan. Ma perché il Signore decide di mettere alla prova per mezzo loro Israele? Sì, approfitto Alessia di mettere questa tua domanda insieme a un'altra riflessione. L'inizio del Libro dei Giudici, mi pare l'abbiate capito, è molto più faticoso del modo di procedere del Libro di Giosuè. Lì era tutta una vittoria, senza praticamente colpo ferire, Israele ha conquistato e dilagato sulla terra della Palestina, sulla terra promessa. Qui nel Libro dei Giudici vedete che la storia è diversa, la vittoria è stata molto più faticosa, il popolo ha peccato, si parla di nemici che hanno avuto la meglio tante volte su Israele. Non è tutto così semplice come era raccontato nel Libro di Giosuè. Qui si sta dicendo che Dio ha lasciato sussistere diversi nemici nella terra promessa per mettere alla prova Israele, cioè per vedere se Israele si abbandonava all'idolatria, seguendo le divinità di questi altri popoli. E un'altra spiegazione la troviamo appena qui sotto, dice, ciò avvenne per istruire le nuove generazioni degli israeliti, per insegnare loro la guerra, perché prima non l'avevano mai conosciuta. Un'altra lettura, un'altra spiegazione del perché il popolo abbia fatto così tanta fatica, secondo il Libro dei Giudici, a conquistare la terra promessa è questa spiegazione. Dio ha voluto davvero che rimanessero dei popoli presenti, scomodi, perché Israele, combattendo contro di loro, rimanesse un popolo allenato, avesse un esercito in forma, un esercito efficiente. Se Dio avesse sbaragliato tutti i popoli, Israele sarebbe stato un popolo che non sapeva combattere, perché mai aveva dovuto confrontarsi con altri popoli. Però vedete che il tono complessivo di questo Libro dei Giudici è molto più faticoso rispetto alle vittorie strepitose del Libro di Giosuè. Nel Libro dei Giudici, l'allontanamento del popolo da Dio dalla sua alleanza è qualcosa che comporta grandi difficoltà come vedremo anche nelle prossime puntate e nei nostri prossimi incontri. di Giosuè di Giosuè Grazie a tutti.